Buonasera cari amici, stasera torniamo con un video che facciamo una duplice riflessione. Permettetemi, anche se non è il mio campo, di fare una riflessione sul ritorno in Italia di Silvia Romano, quella ragazza che ovviamente è stata rilasciata dietro ai pagamenti di scatto, eccetera. Ora io non voglio entrare in argomenti che non mi appartencono dal punto di vista sociologico, però una riflessione va fatta. Quello che ha colpito, al di là di tutto, al di là del fatto che si è pagato un riscatto, è innanzitutto che quel velo, cioè quel velo, quel panno, come lo vogliamo dire, come si chiama, la gilbab, quella veste verde con la quale è scesa dall'aereo. Ora, la Silvia Romana, che adesso si chiama Aisha, scendendo così, diciamo, ha mostrato al mondo, al mondo, a mass media, che lei, diciamo, ha abbracciato questa religione, ma fermo restante la libertà di religione di ognuno, la tolleranza verso tutti, e noi la chiediamo per noi, la dobbiamo rispettare degli altri. Però le donne somali che hanno questa veste fanno parte di un terrorismo di matrice islamica, dei più duri, degli assassini più spietati, che fanno degli attentati atroci, che non hanno alcun tipo di misericordia per nessuno. Quindi, secondo me sarebbe stato più opportuno che la ragazza scendesse con abiti normali, civili, occidentali, chiamiamolo così. Poi, una volta andato nella sua casa, poi poteva riprendere la vita come voleva, magari anche successivamente a mettersi questo gilbab. Però arrivare così con un aereo di Stato, con tutta quella cerimonia di accoglienza da parte dei militari italiani, del governo italiano, e presentarsi con questo emblema mi è sembrato di cattivo gusto, come pure il fatto di questo pagamento del riscatto che in effetti crea la strada a un precedente molto pericoloso, perché vogliamo andare indietro nel tempo, ai tempi di Aldomoro, che fu ucciso per non pagare il riscatto alle Brigade Rosse, o per i vari tipi di sequestro, o comunque, voglio dire, la politica di non trattare con la delinquenza e col tesorismo, che adesso invece c'è stato e quindi è un pericoloso precedente. Detto ciò, umanamente, umanamente fa molto piacere. Però, ecco, questo suo modo, questo emblema dello gilbab, ostentato al mondo, non mi è piaciuto. Detto questo, torniamo ai fatti più di cronaca, sempre legati, diciamo, a questo virus della paura. Io non lo chiamo più coronavirus, lo chiamo virus della paura, forse virus della deficienza. Vedete, ormai è consolidato il fatto che si cerca sempre di trovare il male lì dove non c'è. Ad esempio, c'è un incremento dei contagiati rispetto al giorno prima, allora si mette in evidenza quello, quello, aumento dei contagiati rispetto a ieri, ma non si mette in evidenza quello che è l'elemento più importante, cioè che gli ospedali si svuotano, che non ci sono praticamente più ricoveri, anzi sono dimissioni dalle terapie intensive, che stanno cominciando a ricoverarsi, molte persone con le altre patologie escono di nuovo fuori, gli ictus, gli infasti, pian piano torna, come dire, quella che è fisiologica nella normalità della vita umana. e come pure la stupidità anche di questi protocolli, che ho letto per le riaperture, trovo sinceramente raccapricciante che si possa pensare, come dire, di andare al mare con distanziamenti, dico di ombrelloni quattro metri, che non si possa nemmeno avvicinare in acqua al mare, che addirittura in istabilmente le piscine chiuse, che non si possa fare nessun tipo di attività creativa di nessun genere. mi sembra veramente come vivere in un incubo e magari, non so, andare in spiaggia con la mascherina, mi sembra veramente un protocollo assurdo, come pure nei ristoranti, quattro metri, anche di distanziamenti, con i tavoli. Pensate che l'economia non è fatta di quei saloni immensi, ma io vedo anche nelle mie zone qua, di solito sono locali medio piccoli, o piccoli, che vivevano con quei 4, 5, 6, 7 tavolini con i quali andavano avanti ognuno per la sua piccola attività. Adesso che fai? Metti due tavolini? Non vale nemmeno la pena più riprendere questa attività, è veramente una cosa in fausta. Io credo che, sì, regole per il distanziamento, per la pulizia, per il lavaggio delle mani, ma tutto quello che volete voi. Però bisogna dare stimolo, fiducia, e anche confidare sicuramente in questo indebolimento del virus che non si vuole nemmeno ammettere, perché si deve tenere l'italiano medio nella paura, incondizionata, ma d'altronde noi siamo, per me, un popolo stupido, che non guardiamo agli altri. A sempre in Europa, tanto per dire, guardate, in Europa stanno andando avanti tutti, mettiamo il calcio. Seguitemi per piacere, seguitemi in questo. Mettiamo il calcio, che comunque è una grossa industria. Mettiamo la Bundesliga, che già sabato adesso riparte, partite con porte chiuse, con 300, comunque 300 persone che stanno nello stadio, e poi in tv, e il protocollo lì che cos'è? È che, se dovesse uscire una positiva nella rosa, e può capitare, si mette in isolamento quello là, tipo come se fosse un infortunio, e si va avanti. Invece no, il protocollo italiano è, dice, no, se esce un positivo nell'ambito della rosa, tutta la squadra è in quarantena. Allora voi mi state dicendo, che è tesorismo questa, è stupidità, perché è ovvio che, su un parco di giocatori, fatti di centinaia, di centinaia di giocatori, delle squadre, può capitare statisticamente, che uno o due, possano essere positivi, in qualsiasi modo. E che fai? Una volta che tu, metti solamente tutta la squadra, praticamente, il campionato non può continuare. Quindi, vedete, sono atti di tesorismo, e di deficienza mentale, che noi, purtroppo, dobbiamo assorbire e subire. Ma, d'altronde, noi siamo un popolo, fatto così, un popolo di televisione, spicciola, che crediamo tutto. Ad esempio, no, adesso, vi voglio fare un esempio, che, sembra una battuta, ma, c'entra con il discorso. Mi sono trovata a vedere, casualmente, uno di quegli episodi, di Uomini e Donne. Vedete? Uomini e Donne. Ma, vedete, è uno spettacolo, che voi conoscete, popolare, in cui si costeggiano, Uomini e Donne, di una certa età, oppure di giovani. Ma, io non è, che voglio dedicare, perché sono, trovato un intrattenimento, poi, è normale, che all'interno, vi siano, magari, qualche storia, apreta, altre storie inventate, ma, oggi, assistevo, a un costeggiamento, un pseudo costeggiamento, di un ragazzo, di 26 anni, a una signora anziana, Gemma Galgani, si chiama, di 71 anni, e questo, giovane, di 26 anni, che la costeggiava, dicendo, che avevano questa storia, questa simpatia, fra di loro, ora, vedete, come si può, mai credere, eppure, c'è gente, che lo crede, a questa cosa, questa signora, anziana, che potrebbe essere, non la mamma, ma la nonna, la nonna, dico, di questo ragazzo, e questo ragazzo, che ovviamente, va lì, a speculare, a essere, per farsi vedere, per rendersi noto, ma non lo so, se anche questa signora, anziana, questa gemma, sia parte del gioco, o sia, magari, l'unica, che viene ingannata, dall'amore, di questo ragazzo, ma, mi sembra, una cosa incredibile, eppure, audience, audience, la gente, dice, madonna, guarda là, quelli di 26 anni, c'è la storia, con quelli di 71 anni, allora, se non crediamo questo, signori miei, eccoci al punto, se non crediamo questo, è normale, che dobbiamo credere, che il virus, è sempre lo stesso, che non se ne andrà, che dobbiamo stare lontani, che dobbiamo stare con le mascherine, tutta la vita, pure a settembre, dobbiamo andare al mare, con le mascherine, non bisogna andare, nemmeno nell'acqua del mare, niente, non bisogna fare niente, allora, anche quando ci si butta in mare, mettiamo un megafono, entra il mare, il numero 64, poi dopo 5 minuti, entra il mare, il numero 65, siamo dei robot, degli stupidi, degli idioti, cose che non avverrà, e non avviene, non avverrà, negli altri paesi europei, grazie a Dio, quando io dico l'Europa, ci potrà salvare, quindi, diciamo che, bisogna in effetti, pensare bene a questo fatto, signori miei, pensare bene, di, che la parte intelligente, la parte cosciente, la parte autentica, di questo paese, si ribelli, ma anche la parte politica, intelligente, io non faccio politica, ripeto, io vado a livello trasversale, tutti, si ribellassero, a queste regole, di questo, pseudo comitato scientifico, che, voglio dire, sta perdendo di credibilità, giorno per giorno, i vari, eburioni e company, che sanno, che spariranno, nel momento in cui, non avranno, le prime pagine, già adesso, non hanno più, la prima pagina, ma hanno una seconda pagina, e si stanno preoccupando, allora, devono lanciare l'allarme, vedete, voglio concludere, con un caso, che mi ha toccato molto, in questi giorni, e chi, è della zona, lo sa, che non dico, sciocchezze, voglio parlare, del caso, di Giovanni Somma, Giovanni Somma, era, ahimè, perché è morto, giorni fa, un albergatore, un uomo per bene, che aveva, sul monte Faito, qua vicino, un ristorante, che si chiama, la Cinciallegra, ora, io ho conosciuto, questa persona, perché, andavo, andavo, ogni tanto, ovviamente, lì sopra, con la famiglia, l'ultima volta, a gennaio, andai a gennaio, e, parlammo, parlammo, lui ci offri le sue specialità, insomma, parlammo, del più, del meno, e ci salutammo, dicendo, poi ci vediamo, vabbè, poi è successo, un po' tutto il casino, ebbene, questa persona oggi, non c'è più, sapete perché non c'è più? Perché il primo di maggio, signori miei, Giovanni, Giovanni Somma, non si sentì bene, mal di pancia, febbre, subito, fu condotto in ospedale, reparto Covid, amici miei, reparto Covid, perché tutto doveva essere Covid, fu curato per Covid, Giovanni Somma è morto, la famiglia poi si è svegliata, si è ribellata, perché ovviamente, quando fu postato Giovanni Somma, reparto Covid, non fu permesso a nessuno, di andare a vedere, a correre in ospedale, perché reparto Covid, tutto Covid, poi hanno fatto accettamenti, autopsie, tutto, negativo, quindi non aveva assolutamente il Covid, l'hanno curato per Covid, è morto, aveva, non so, qualcosa intestinale, qualche problema, non lo so, improvviso, insomma, Giovanni Somma, è una vittima, non del Covid, ma della mala sanità, e come lui, e mi dispiace, perché una persona che ho conosciuto, veramente mi ha turbato questa notizia, è uno dei tanti, uccisi, certamente, involontariamente, mi auguro, dalla mala sanità, ma questo è capitato a migliaia, a migliaia, a migliaia di persone, anziane, a Bergamo, Brescia, in Lombardia, e questo non era anziano, Giovanni, è un uomo, una sessantina d'anne, vittima, innocente, della mala sanità, ma invece, gli altri, gli altri migliaia di persone, gli anziani, che sono stati, fatti letteralmente fuori, dalla mala sanità, lombarda, perché, dalle case di riposo, sono stati portati, in questi ospedali, protocollo Covid, quindi protocollo Covid, intubazione, lavaggi con questi potenti medicinali, e mostre quasi istantanea, cioè procedure sballate, che adesso, fortunatamente, sono state riviste, ma, basti pensare, che ognuno di questi poveri, vecchietti, sicuramente, sarà stato allergico, a qualche medicinale, qualcosa, e poi, quando giungevano lì, al protocollo standard, nessuno faceva loro, tutti i tipi di analisi, per vedere, eventualmente, qualche allergia, qualcosa, e nemmeno, potevano chiedere ai familiari, perché ai familiari, era interdetta, qualsiasi vicinanza, qualsiasi intervento, perché non si poteva entrare, non si poteva, nemmeno dopo, nemmeno dopo, bruciare tutto, perché le autopsie, le hanno potute fare, molto dopo, a qualcuno, ma le prime migliaia di morti, venivano bruciate, e via, e quindi spariva tutto, quindi, ecco, perché adesso, che stiamo andando, verso una forma di normalità, io dico, attenzione, attenzione, perché, Reza, Purioni, tutti questi personaggi, che ci parlano ancora di tesore, questo comitato scientifico, che ci dice, bastoni e bastoncini, fra le ruote, no, non apriamo qua, non apriamo là, attenzione, se aprite, uno a nord, uno a sud, distanziate, attenzione, mascherina anche all'aperto, la più grande idiosia, sono le mascherine all'aperto, per me, la più grande idiosia, sono le mascherine, in luogo aperto, scusate, in luogo aperto, quando si sta da soli, ad esempio, se io vado in campagna, oppure passeggio, per una parte, di questo solo io, non vedo, ma i più grandi medici, lo dicono, la necessità, quindi, invece, è normale, è ovvio, è giusto, che per questo periodo, in luoghi chiusi, si rispetti, un certo distanziamento, ma deve essere una cosa, molto flessibile, come si può pensare, di aprire le attività, turistiche, distordative, buzz, facendo fare le file, delle persone, per prendere il caffè, fuori dalla strada, bisogna essere un po', un po' più morbidi, ma sicuramente, e, e, non avere paura, del fatto, che il virus, si è indebolito, è inutile, che se lo si nega, il virus, tenderà a sparire, d'estate, è inutile, ormai, Budioni, Rezzi e compagni, devono andare, non nella seconda pagina, ma nella quinta pagina, poi nella sesta pagina, e sparire, invece no, tengono ancora, al guinzaglio, la parte politica, evidentemente, e, dettano i tempi, i modi, e noi siamo qui, io confido negli uomini intelligenti italiani, nella classe politica, perché ci sono pure le persone intelligenti, nella classe politica, e, ovviamente, nell'esempio europeo, perché non credo che in Europa si faccia così, assolutamente, già adesso, si vedono persone, a migliaia per l'estate, quindi noi, non possiamo restare indietro, solo noi, solo noi, e essere, e dire alle persone, state in casa, non uscite, ci vuole ancora la giustificazione, non ci si può spostare, oppure si fa al ristorante con la giustifica, ma, sono cretinate, per me, sono, e tesorismo mediatico, anche questo, l'Europa ci potrà salvare, arrivederci a domani, per qualche altra riflessione, fra noi, aiutiamoci, aiutiamoci, per favore. a domani, a domani, aiutiamo, a domani, Grazie.